Siamo con Enrico Valmati che compie gli anni e i suoi boys gli hanno fatto un regalo, 2-0. Il regalo me l'ha fatto anche la squadra avversaria perché i due gol vengono da due loro distrazioni enormi, però bisogna saperle anche sfruttare, le distrazioni degli altri. Tanto quanti anni compi? 26. Ma si può fare il ministero a 26 anni? Se sei credibile alla squadra e fai le cose fatte giuste per la categoria e per la squadra che hai, non ci sono assolutamente problemi. Speravo la prendessi più spiritosamente, ma hai risposto serio. Senti un po', non ti canto tanti auguri, se no non la sente nessuno l'intervista, ma cosa ti è piaciuto e cosa vedi che c'è da migliorare nella tua squadra? Abbiamo fatto sicuramente una buona partita per essere la prima ufficiale. A livello di gioco siamo andati bene, potevamo fare sicuramente meglio perché abbiamo fatto, abbiamo andato tanto la palla, però sono stati poco concreti negli ultimi 35 metri, però sono soddisfatto, dobbiamo migliorare perché molte volte rischiamo magari dei passaggi che ci possono mettere in difficoltà e le occasioni dell'avversario sono venute per questo motivo. e i gol, io sono contento perché i ragazzi hanno fatto quello che abbiamo provato tutta la settimana, quello che ho chiesto prima della partita, quindi una fase di pressione fatta bene, studiata e i gol sono venuti, anche questo è perché abbiamo indetto l'avversario e l'errore, quindi sono molto soddisfatto dei gol segnati. Ho capito, vedo che voi basate molto sul possesso palla, secondo te è da migliorare la parte del possesso palla più alta? È da migliorare sicuramente il consolidamento del possesso palla nella loro tre quarti e dobbiamo farlo di più per consentire un possesso palla meno rischioso e per consentire un possesso palla più efficace e che porti il più velocemente possibile alla fase di finalizzazione. Se non sbaglio oggi ti mancavano anche due pezzi da 90, Scalzi e Colella? Sì, sì, mancavano sicuramente Scalzi e Colella, avevano fuori anche Galluccio, Gastaldo, due altri giovani, mi rientra lunedì. Io ai ragazzi dico sempre che il gruppo è la cosa fondamentale e come abbiamo visto oggi, nonostante qualche assenza per infortunio, qualcuno che è ancora in vacanza, la squadra ha risposto bene, ma come stanno rispondendo bene sia gli allenamenti sia oggi per la prima partita ufficiale. Ok, compleanno, regalo arrivato, adesso te lo vai a festeggiare o vai a vedere altre partite? Eh, questa cosa qua te la dico dopo, mi danno un po' al campo. Ok, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.